Sono troppo salisi, tanto benissimo che non ci sarà più una piena democrazia, ma avremo una democrazia minore, perché è una democrazia vera, si fonda sul sistema del check and balance, dei pesi e dei contrapesi e anche dei pesi, che noi ci accingiamo ad un anno straordinario per una vittoria finale tra un anno come abbiamo vinto nel 2000, dagli auguri di che Grazie a tutti 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 Grazie a tutti